Io ho avuto a che fare con Petra per una coreografia. La caratteristica principale, pensando a Petra, era la sensualità lirica, perché a quell'epoca Petra era un adolescente e quindi pensavo a queste linee lunghe, morbide, sensuali e pensavo a qualcosa di estremamente lento che fungesse da lente di ingrandimento per quella che è una qualità che io apprezzo molto in Petra, ovvero la cura del dettaglio, che era una cosa che mi ha colpito vedendola lavorare già da ragazzina, 12-13 anni, su delle variazioni classiche. Devo dire che mi ha sorpresa per l'intelligenza con cui ha abbracciato il linguaggio che io le ho proposto, perché lei è una ballerina classica pura come origine e anche come tendenza. E quando devi essere capace di plasmare il tuo corpo al secondo del linguaggio che ti si presenta attraverso il coreografo con cui lavori. Grazie a tutti.